La voglia e la volontà di fare qualcosa di concreto, ho pensato che era il momento di mettere al servizio del Paese tutto quello che avevo appreso. L'attività che svolgiamo quotidianamente è un'attività volta a un miglioramento e ad una semplificazione di procedimenti e processi decisionali. L'apporto tra pubblica e amministrazione cittadini necessita di un cambiamento e di essere reso più snello e dinamico. A spingermi verso Formez è stata la volontà di prendere parte a un qualcosa di più grande di me, di supportare le amministrazioni a sviluppare delle dinamiche di lavoro più flessibili, giovanili e snelle. Il Formez costituisce una realtà spidante e stimolante che consente di cimentarsi quotidianamente con progetti e attività al servizio della pubblica amministrazione. La possibilità di mettere mani su qualcosa di veramente concreto che potesse avere un impatto, quindi ho pensato che era il momento di entrare in Formez. Fiducia è la chiave che io utilizzerei per modificare e migliorare il rapporto tra pubblica amministrazione italiana e cittadinanza. Vicinanza. Penso che sia un aspetto importante accorciare le distanze tra pubblica amministrazione e cittadino. Dinamismo. La pubblica amministrazione deve farsi trovare pronta ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e a tutte le sfide e le difficoltà che possono incontrare. Sono orgogliosa di riprendere parte a questo processo di trasformazione e innovazione della pubblica amministrazione. Orgoglio. Credo che questo lavoro mi porti un grande senso di responsabilità e mi renda anche orgogliosa di quello che faccio. Adrenalina è l'essenza del mio approccio verso il Formez e verso il cambiamento della pubblica amministrazione. Grazie a tutti.